Buonasera, parliamo di Covid, anche se vorremmo fare altro ma dobbiamo necessariamente provare a fare qualche considerazione su questo tema, soprattutto dopo gli aumenti dei positivi degli ultimi giorni, è bene fare una riflessione. Allora intanto gli attualmente positivi a Via Leggio sono ad oggi 319, non vi do il dato odierno o il dato di ieri perché come sapete, come vi ho detto più volte, credo sia opportuno guardare il dato settimanale o comunque di più giorni perché un giorno solo dipende da diversi fattori, in particolare magari il ritardo nella lavorazione di tamponi o altre cose. Per cui guardiamo il dato settimanale e il dato complessivo. Allora il dato complessivo riporta a Via Leggio 319 casi positivi e in tutta la Versilia 676. In ospedale abbiamo ad oggi 45 persone ricoverate, 32 nel reparto Covid ordinario, 4 in terapia intensiva e 9 Covid in riabilitazione. Quindi vedete che su 676 persone della Versilia 45 sono ricoverate in ospedale, il resto fortunatamente è sicuro a casa perché non ha sintomi rilevanti. Nel mese di febbraio ad oggi abbiamo avuto 512 positivi, nel mese di gennaio ne abbiamo avuto 432, nel mese di dicembre erano 924. Quindi vedete dicembre 924, gennaio 432, febbraio 512, questi ultimi giorni, 23, 24, 25, ne abbiamo avuto 140 in Bezzilia e 86 a Via Leggio. Quindi c'è stato un incremento. Ecco, questo incremento è dovuto sicuramente a due fattori. Diciamo un fattore contingente che è generalizzato, cioè l'aumento della pandemia, ma anche nel nostro caso i tre fine settimana gialli che hanno inondato la passeggiata di persone che sono venute a passeggiare. E inevitabilmente, se c'è la possibilità di farlo, la gente ha diritto, ma poi purtroppo si pagano le conseguenze. E questo aumento è inevitabilmente una conseguenza del fatto che ci siamo un pochino tutti lasciati andare. Tenete conto che dall'inizio della pandemia a Via Leggio abbiamo avuto 2297 casi positivi. Di questi 2297 casi positivi, purtroppo 90 non ce l'hanno fatta e sono deceduti. Tenete conto che rappresentano questi 2297 positivi il 3,71% della popolazione di Via Leggio. Ed è un numero importante, anche se sembra piccolo, ma è un numero veramente, veramente importante. Ecco perché bisogna continuare a stare attenti, rispettare le prescrizioni. Io mi raccomando, in maniera veramente pressante, teniamo la mascherina, stiamo a distanza, non facciamo assembramenti, perché altrimenti questi numeri sono destinati a salire. Oggi siamo arancioni. I dati della Toscana sono in fortissimo aumento, quindi dell'intera regione. Oggi 1.374 positivi. Ieri erano quasi la metà, insomma, vuol dire che c'è stato un incremento generalizzato. E quindi si rischia di cambiare colore e di andare in una situazione, diciamo, più grave. Quindi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, perché ne va della nostra salute prima di tutto, ma della nostra economia, della nostra situazione di comunità. Quindi proviamo ad rispettarlo. Nel caso specifico, oltre a questi tre weekend, diciamo, di fuoco in Bersilia, noi abbiamo un monitoraggio che naturalmente cerchiamo di fare con l'aiuto dell'ASL e abbiamo capito che ci sono due, tre famiglie molto numerose che sono state contagiate e che però il contagio non riguarda soltanto una singola zona, ma riguarda veramente tutto il territorio, nel caso di Viareggio, tutti i quartieri, compreso la frazione di Torre del Lago. C'è un contagio diffuso che, diciamo, in qualche modo ripartisce questi 319 casi complessivi praticamente in tutto il territorio, eccetto, ripeto, un paio di famiglie numerose in un quartiere della nostra città. Questa è la situazione ad oggi. Io vi invito, naturalmente, a tenere altissima l'attenzione, a non farci prendere dalla stanchezza, perché siamo tutti stanchi, stressati di questa situazione, e a continuare a rispettare le regole. Mi raccomando, lo dico veramente in maniera accorata, perché se ciò non avvenisse è chiaro che dovremmo prendere dei provvedimenti che ci auguriamo tutti, naturalmente, che non vengano presi. Per cui vi auguro buona serata, è giusto preoccuparci, ma è anche giusto avere a memoria e a mente i dati che vi ho dato prima, e cioè che, come dire, questo contagio è in aumento, ma ad oggi, diciamo, non sembra...